Artigianato in tutti i suoi aspetti, dalla gastronomia all'acconciatura, passando quasi obbligatoriamente per il luogo che ospita la Kermess, per la ceramica. Vivi Villa Guariglia si candida ancora di più ad essere luogo di formazione con il CNA che farà esplorare, soprattutto ai giovani, le potenzialità infinite dell'arte del fare, dell'artigianato. Noi ci incamminiamo verso un cammino più roseo, spero, per i nostri giovani che si affacciano e si affacceranno al mondo dell'artigianato. Ovviamente le serate che noi avremo a Villa Guariglia comprenderanno un po' tutte le varie sfaccettature dell'artigianato, da quelli che sono gli orafi, gli acconciatori, gli estetisti, i ceramisti, gli chef dei grani, insomma c'è un mondo variegato che effettivamente potrebbe dare un respiro alla nostra provincia. Gli spazi della cultura, dell'arte sempre di più quindi sono aree aperte al futuro, luoghi vivi dove creare opportunità di crescita a 360 gradi. Noi promuoviamo sempre, siamo sempre vicino all'arte, perché è la nostra mission fondamentale, ma anche all'impresa. Impresa e formazione, formazione e scuola, quindi penso che sono i pilastri della nostra società e devono andare a braccetto, perché la formazione, i giovani sono il nostro futuro e quindi noi crediamo assolutamente che l'arte e la cultura devono sposarsi con la formazione. Per questo questo progetto dovrà anche andare avanti, quindi ben oltre i termini ristretti dell'Expo 2015.